Fiamme altissime all'alba in un'azienda privata di stoccaggio rifiuti che si trova a tombole è successo alle 8 e 15 di giovedì. Alcuni operai stavano lavorando su un trita rifiuti che ha preso fuoco accidentalmente. Il materiale plastico triturato ed espulso dal macchinario era incandescente e fuoriuscendo si è depositato su un altro materiale plastico e spugnoso già stoccato all'interno del capannone provocando l'incendio. Fortunatamente non si segnalano né feriti né intossicati.